TMV Radio, Brambati, Juventus, la penalizzazione non diventi un alibi per Allegri. Massimo Brambati, ex calciatore e promoter, è intervenuto a Maracana, nel pomeriggio di Radio TMV, sui temi della giornata. Troppe critiche per l'Inter. Come non criticare la squadra più forte d'Italia da almeno due anni, persa l'anno scorso e quest'anno ha 13 punti da Napoli. Non dovresti criticare. L'Inter ha tra i club che giocano in Supercoppa o Coppa Italia se non giocano in campionato. L'Inter non può accontentarsi di queste coppe, dovrebbero sempre lottare per lo scudetto, perché è grande nel nostro campionato. L'Inter può sorprendere in Champions League? Se l'Inter fa quello che fa in campionato, va al porto, ma poi deve fare di più. Il Napoli ha la partita alle corde, anche per arrivare in fondo. Per me, se continua ad avere questo gap in campionato, potrebbe misurare la sua forza solo per scommettere duramente in Champions League. È il quasi impossibile recuperare in campionato, ma abbiamo visto tutti i tipi di ritorni in passato. Per questo motivo, ci dovrebbe sempre essere un certo margine. Il Milan ha una chance con il Tottenham. Entrambi perderanno il portiere titolare. Penso che il Milan tornerà per fare qualcosa di positivo. Ha l'opportunità di dare un piccolo tocco alla stagione con la Champions League. Tottenham sta crescendo, ma in costruzione, non è ancora definito come Milano. Come vedi tatticamente la Juventus contro la Fiorentina? Non vorrei che questi 15 punti diventassero un alibi per Allegri. Già prima del rigore una Juve disastrosa, prima in Champions e poi in campionato, nonostante il ritorno. Allegri deve anche recitare il mea culpa per molti infortuni, mai visti in una grande stagione. Non ho mai visto una Juve intensa, che ha dominato per almeno 60 minuti. Se critico Inzaghi, non posso fare a meno di criticare Allegri. Ha comprato tutti i giocatori che voleva, ed è soddisfatto del club quest'anno. Pogba non è ancora stato visto e qualcuno deve pagare per questo caso. Ci sono alcuni difetti da parte di Manageriale Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla. Pogba non è cormente supervisori La descrizione Questa è più evidente Questa è più evidente Questa è più cielo Si vograsza Questa è più evidente Questa è più evidente Questa è più evidente